La gente inizia ad averne abbastanza dei venduti dei corrotti al World Economic Forum, al Forum Economico Globale di Davos di Schwab, alla Nato e agli Stati Uniti d'America. Politico Maggiaro, il solito Toroskoi Laszlo d'opposizione a Orban a destra, distrugge l'Unione Europea. Andiamo a vedere il suo tweet, il suo messaggio su Twitter, che ricorda le proteste recenti del scorso fine settimana a Praga, in Repubblica Ceca, per l'aumento delle bollette energetiche. Qualcuno, come il governo, il primo ministro Ceco, come vediamo anche qui in una risposta qui sotto, ha parlato di una radunata, di una protesta organizzata da forze estremiste e vicine a Mosca, al Cremlino, a Putin. Ovviamente questo stesso politico, Toroskoi, contrario al Green Pass, ai vaccini obbligatori anti-Covid, eccetera, eccetera, anti-europeista, che vuole il referendum in Ungheria per uscire dalla Nato e dall'Unione Europea, viene visto come un putinista e viene attaccato come un fascista, come un nazista e come un razzista. Ricordiamolo che è proprio lui l'ideatore di quel famoso muro, cioè rete, al confine con la Serbia. E' stato per lunghi, lunghissimi anni sindaco di Ascio Tolomun, paesino, 5.000, 3.000, 5.000 abitanti, proprio al confine con la Vojvodian, cioè la Serbia del nord, abitata da una importante minoranza di lingua ungherese. Praga non vedeva, scrive lui, una protesta del genere così partecipata, la polizia parla di 70.000 partecipanti, mentre gli organizzatori più di 100.000 dal 1989, dai tempi delle proteste a favore della libertà anti-comunista e contro la dittatura per l'ingresso nel mondo occidentale, poi più tardi, negli anni 2000, nell'Unione Europea. Possiamo dire oggi è stato un errore, è stata una cosa giusta, sta a voi deciderlo. Qui il tema è talmente complesso, la realtà è talmente complessa che è difficile decidere, perché la realtà è in continuo divenire, mutamento, tutto cambia. Comunque se la prende Toroscoi, soprattutto non anche, con i politici che stanno alla guida dell'Europa, che stanno distruggendo l'Europa, non l'Unione Europea, per gli interessi di un governo provocatore, corrotto, quello di Kiev, un pupazzo, Zelensky II, Toroscoi, nelle mani del Forum Economico Globale di Davos, della NATO e degli Stati Uniti d'America. Andiamo a vedere quali sono state le motivazioni della protesta oceanica a Praga in Repubblica Ceca l'altro giorno. Allora, contro la politica governativa di Petr Fiala, di coalizione di centrodestra europeista anti-Orban, anti-Visegrad, diciamocelo tutta subito, contro il rifornimento di armi, non solo aiuti umanitari, all'Ucraina, contro quindi le forze armate russe. Mentre gli interessi del popolo cieco sono stati messi da parte. Beh, noi vogliamo, dicono i sostenitori di questa protesta, ritornare a una Repubblica Ceca in mano ai cechi, agli interessi cechi. Che è un paese che deve rimanere neutrale, perché questa non è la nostra guerra. Sembra di sentire Orban. La politica economica del governo di Petr Fiala è stato un totale fallimento. L'Unione Europea, come l'Unione Europea con le sue politiche, tra virgolette, verdi, amiche dell'ambiente, e sulla politica ucrainista. A dirlo è Miroslav Sevchik, spero di pronunciarlo bene, uno dei decani, cioè dei capi della facoltà di Agraria, nella scuola superiore di Agraria, proprio di Praga, molto importante. Tra i partecipanti, chi ha preso il microfono in mano, ci sono stati molti di sinistra e molti nazionalisti di destra, cioè quelli che verrebbero chiamati estremisti. Mentre chi sta in mezzo, idealmente, in Parlamento, è visto come moderato. Naturalmente le cose non sono così semplici. Forse, ha detto Susanna Mayerova, una nazionalista a capo del partito tricolora, che si è autodefinito nazionalista, il governo di oggi forse rappresenta gli interessi dell'Ucraina, forse gli interessi di Bruxelles, ma per nessun motivo al mondo quelli del popolo cieco. Tra i partiti che stanno in Parlamento, l'unico a presentarsi alla protesta è SPD, di destra, estrema destra, per Wikipedia, che è un sito, ormai sappiamo un'enciclopedia di estrema sinistra, possiamo tranquillamente, della nuova estrema sinistra, da distinguere, da differenziare rispetto alla vecchia estrema sinistra, sinistra comunista marxista in senso classico. Qui parliamo di una sinistra nuova, di marxismo culturale, quindi di europeismo, di ucrainismo e di globalismo. A dirlo, a dire che non siamo in guerra contro nessuno, non è la nostra guerra, siamo noi i primi ormai ad essere vittime di questa guerra, cioè noi cittadini ciechi, a dirlo è Hinek Blaschko, spero anche qui di pronunciarlo bene, un generale in pensione dell'esercito cieco, che fa l'europarlamentare per il partito nazionalista di prima, SPD. Nella protesta antigovernativa, la protesta antigovernativa si è tenuta un giorno dopo, che il governo di coalizione per friala, europeista, ucrainista, non ha ottenuto la fiducia in Parlamento, la mozione di sfiducia è passata, o meglio, la mozione di fiducia, la fiducia chiesta dal governo, non ha avuto i numeri. Come titolano, come commentano, per pezzi passati, per notizie, quando in realtà sono pura propaganda, i giornali globalisti italiani, come Affington Post, ormai il mio preferito, tra virgolette, per capire un po' il globalismo italiano, l'europeismo, l'ucrainismo italiano. In tasca Orban, ora Putin punta Praga, ma vergognatevi. Michelizze, Istituto di Affari Internazionali, la Russia cerca di spaccare i paesi europei, perché non riesce a vincere in Ucraina, ma chi ve l'ha detto? Prepariamoci, in autunno ci saranno altre manifestazioni, come questa in Europa. Di chi è la colpa? Di Orban? Di chi è la colpa? Forse dell'Unione Europea, che ha voluto sanzioni energetiche, che ha azzoppato l'economia, che hanno azzoppato l'economia europea, della Repubblica Ceca, ma anche dell'Italia, degli italiani e degli Ungheri, lasciamo per non commento, altrimenti mi becco una querela. Se volete sostenere questo tipo di informazione indipendente, nazional-conservatrice, il più possibile autentica, secondo alcuni, per quello che ho detto poc'anzi, sarei automaticamente putinista e filo russo. Questa l'ha dicetuta sul terribile tempo in cui viviamo una opinione pubblica viziata da guerra di propaganda, di informazione, non solo sul campo in Ucraina, purtroppo in Europa. Potete sostenere questo tipo, questo canale, attraverso i due metodi indicati in descrizione. Paypal, anche mensile, bonifico, bancario. Ringrazio Francesco per la donazione proprio al canale. Come sempre, mi piace, condivisione, iscrizione, attivando le notifiche su YouTube. voto ai taci, al giornale conservatore ungherese. Anche a Colonia hanno protestato, questa volta però, i filo russisti apertamente, e non centomila, ma si parla di centinaia, massimo di migliaia di persone. Sono issate bandiere russe, slogan contro la Nato, ma sono stati vietati i simboli come la Z e la V. Contro, e come ha sottolineato la fonte originale tedesca, express.de, c'è stata la polizia in mezzo, dall'altra parte, sempre a Colonia, a Colonia, in centro, gli ucrainisti con le bandiere ucraine, e si sottolinea, in questa foto, racconta tutta la imparzialità del vero giornalismo europeista-ucrainista, che sta di qua, guardate, una sorta di bandiera antifa, con la bandiera rossa sopra la bandiera nera, simboli ovviamente dell'anarco-comunismo. Qui sotto trovate anche il video con la Nato, il simbolo della Nato, la scritta Nato, sbarrata. Quindi c'è stata la protesta russista contro il governo di Scholz, l'invio delle armi, eccetera, 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 e dall'altro lato della palizzata, in mezzo alla polizia, la unione di Colonia contro la destra, l'estrema destra. RTL.U, giornale d'opposizione ungherese, già dal logo arcobaleno è tutto un programma, europeista, ucrainista, eccetera, eccetera. La Germania, già per la terza volta, vara un pacchetto, Scholz, il cancelliere, con coalizioni con i verdi, i neoliberali, bla bla bla, 65 miliardi di euro, contro l'inflazione. Ora, io sarò un ignorante, anche in economia, in macroeconomia, ma in macroeconomia, l'università mi hanno insegnato, che se c'è un'inflazione galoppante, come oggi, cosa si fa? Non si stampa moneta, ma si cerca di fare altri provvedimenti, che non sto qui a spiegare, non sono uno preparato, bravo, per dare consigli agli altri. Questi 65 miliardi, serviranno per finanziare 300 euro, una tantum, anche questa volta, ai pensionati e ai diac, cioè agli studenti, in più 200 euro di sostegno contro il caro energia, e poi si fissa un tetto ai prezzi della corrente elettrica, poi Scholz fissato con questo Liverpool, you'll never walk alone, il motto inglese della squadra calcistica inglese, non sarete mai soli, il governo sarà sempre con voi, vi sosterrà, come no? Altra protesta in giro per l'Europa, questa volta proprio in Italia, da voi, si sono bruciate delle bollette d'energia di casa, chi? I disoccupati del gruppo, appunto, i disoccupati si sono organizzati, cantiere 167, di nome novembre, 7 novembre, a piazza Matteotti, a Napoli, proprio contro il caro energia, contro evidentemente il governo Draghi, ma anche già contro il prossimo governo, che sarà sicuramente allineato, basta ascoltare le parole di politici, come Giorgia Meloni, i fratelli d'Italia, eccetera, eccetera, e mettono, questa è la fonte ungherese, Mondi, la conservatrice, il video del Sole 24 Ore, qui in basso, in italiano, postato su YouTube, tranquillamente pubblicato, LMI. un giornale conservatore ungherese, Zelensky, intanto, con tutto questo caos in Europa, il presidente della Repubblica Ucraina, bisogna, come si può dire, aggravare le sanzioni, ingrandire, espandere le sanzioni, renderle più dure contro la Russia, perché l'Ucraina difende l'Europa, che cosa chiede il presidente ucraino, un eroe di guerra, secondo gli ucrainisti, chiede un embargo totale del gas, e del petrolio all'Unione Europea, quindi soprattutto contro Orbán, per quanto riguarda soprattutto il petrolio, già c'è l'embargo, ma Orbán si è opposto, e ha una specie di deroghe all'Ungheria, a riportarlo, è Index Giornale Europeista, ungherese, d'opposizione a Orbán, e la fonte principale, ucrainisca, Pravda, quindi verità ucraina. Intanto, Gentiloni, l'Unione Europea, cosa pensa, qual è la reazione, come si sta muovendo, la nostra amata Unione Europea, Bruxelles, Commissario Gentiloni, lo conoscerete, italiano, manco sto a dirlo, l'Unione Europea si è preparata bene, si è preparata bene, lo ripeto, all'evenienza di una stop totale del gas russo, ormai ci prendono veramente in giro. Non abbiamo paura delle decisioni di Putin. Intanto, il capo nei neoliberali, di Renew Europe, o liberali, se preferite, al Parlamento Europeo, Giverhofstadt, se la prende, tanto per cambiare con Orbán, e condivide un messaggio dell'ambasciata russa nel Regno Unito di Maria Zakharova, portavoce di Lavro, Ministero degli Esteri, del Cremlino, quindi. Un'altra minaccia nucleare dalla Russia, e si parla dei visti, se voi fermate i visti, guardate che le radiazioni nucleari possono passare i confini dell'Unione Europea, tranquillamente. Zero illusioni, Putin deve perdere questa guerra, o l'Europa sarà la sua mercè, scrive Rostad, nessun compromesso necessario, nessun posto per gli apologeti, cioè per i difensori di Putin, come Orbán, al tavolo delle decisioni dell'Unione Europea. Parole veramente, per l'ennesima volta, gravissime, che dimostrano come l'essere liberali, o neoliberali meglio, non significa essere automaticamente democratici contro gli autoritari, dittatoriari, illiberali, perché l'illiberalismo è la cristiano democrazia, può essere anche altro, ovviamente, ma essere illiberali oggi significa combattere contro queste persone qui, che si dicono liberali, ma non sono liberali in senso classico, sono autoritari. Grazie per aver visto questo segmento al prossimo tra Italia e Modio Orsano.